Che partia mancava l'altro giorno al palinzesto che ti ho detto? Fiorentina-Roma Fiorentina-Roma? Dimmi un giocatore della Roma La Mela Dami sto telefono Dimmi un giocatore della Fiorentina Perfetto Allora ragazzi finisce così, me lo sento Giuro che me lo sento 3 a 2 per la Viola Attenta quello che dici Sto calmo 3 a 2 per la Viola Con Montella che viene rimpianto Stai sporco di suo sui pantaloni Quindi 3 a 2 Con la Mela La Mela Totti sbaglia pure il rigore Ljajic-Jovic Dimmi un giocatore della Fiorentina Non mi interessa Doppietta-Jovic 3 a 2 Doppietta-Jovic Doppietta-Jovic